ciao a tutti e benvenuti su a zalea channel e finalmente ci siamo ragazzi il giorno tanto atteso è arrivato è appena uscita l'espansione stagioni di the sims 4 io davvero non vedevo l'ora l'ho appena scaricata da origine e come potete vedere ho aperto appena adesso il gioco non ho ancora visto niente perché ci tenevo a vederlo insieme a voi per la prima volta infatti vedete qui questa stupenda schermata in cui ci dice che the sims 4 stagioni ti dà il benvenuto vivi gli effetti del clima dal caldo e soleggiato al burascoso e nevato il clima di ogni scenario è diverso da tutti gli altri e influisce nelle attività quotidiane nelle relazioni e nelle scelte dei sim divertiti con le attività stagionali copri di bene e costruisci un pupasso di neve o indosso un impermeabile e goditi la pioggia vesti sim con nuovi costumi da bagno e rinfrescali con il rioratore raccogli il miele in autunno gioca tra le foglie o crea oggetti festivi con i sim più piccolini oddio non vedo l'ora ragazzi celebra le festività decora la tua casa e raduna i sim per celebrare le tradizioni festive più intime osserva i tuoi sim contare i giorni che mancano alla prossima festività puoi perfino creare festività personalizzate e scegliere in che modo saranno celebrare da due sim e io ragazzi ho davvero tantissime idee per inventarmi nuove celebrità che vedremo sicuramente nei vari episodi del gameplay coltiva la tua carriera nel giardinaggio crea splendidi bouquet ed effettua nuove scoperte nella carriera del giardinaggio a secondi talenti naturali del tuo sim per sbloccare nuove abilità nuovi ambiti e oggetti utili quindi ragazzi ci siamo in questo primo video relativo alle stagioni andremo un po a vedere tutte le cose nuove aggiunte nel casse poi vi farò mi porterò un altro video in cui vedremo tutti i nuovi oggetti e poi inizieremo a vedere il gameplay vero e proprio io non ci farò una miniserie a parte su questa espansione perché le stagioni si integrano benissimo con il normale gameplay quindi lo vedremo tranquillamente con le serie che già ho in corso ma direi di non perdere ulteriore tempo e andiamo subito a vedere il casse in particolare con una modella che probabilmente molti di voi conoscono già ed eccoci qui con Anna Kibo molti di voi probabilmente la conoscono se avete seguito la serie current household che ho iniziato a portare da poco nel canale giusto nell'ultimo episodio pubblicato cioè l'episodio 3 vi ho presentato infatti lei con la sua famiglia lei è la mia simmina preferita per cui la ritenevo la più adeguata per farci un po da modella per scoprire tutte le cose nuove aggiunte nel casse quindi vai Anna facci vedere un po tutte le cose nuove che ci sono allora direi intanto per cominciare la spogliamo così vediamo per bene soltanto le cose nuove togliamo tutto accessori anche gli orecchini e direi a questo punto di iniziare dall'alto come sempre quindi iniziamo dai capelli allora vado a mettere il filtro del pack così li troviamo subitissimo oddio guardate che bella l'icocina verde stagioni e guardate già che capelli belli che vedo iniziamo a vederli nello specifico abbiamo questa nuova acconciatura oddio bellissima ce le sta benissimo ragazzi guardate che carina questa treccia qua e questo super cipollotto basso di capelli molto voluminosi e mossi belli 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 le sta veramente bene poi abbiamo questi che invece sono capelli più lunghi mesciati con questo colore nero di base e marroncino rossiccio sulle punte quindi immagino che ad esempio se li mettiamo tipo biondi ecco vedete che cambiano molto anche le mesh ok bellissimi poi abbiamo questi che è un'acconciatura piuttosto corta vedete abbiamo la sfumatura qui dietro e la codina in alto poi quest'altro taglio di capelli corto guardate che carino le sta molto bene anche questo ragazzi veramente il viso di Anna si presta bene a tutti questi tagli di capelli o questo l'abbiamo visto anche nel trailer guardate anche di carino sempre capelli molto mossi ricce questo mezzo cipollotto qua in alto e quest'altro che è praticamente simile a quello che avevamo visto prima però a tinta unita senza mesh quindi guardate un po che bello capelli lunghi un po mossi sulle punte veramente molto molto belli vediamo qua si hanno aggiunto dei cappelli nuovi probabilmente sì perché immagino che per l'inverno abbiano aggiunto varie cosettine allora c'è questo cappellino così che è tipo da spaventapasseri magari può essere camerino anche per un costume di halloween ragazzi sì sì molto carino ovviamente sempre in vari colori poi questo qua che ha la tesa larga carino anche questo molto carino in realtà anche quando questo estivo lo vedo quando c'è sole anche questo che ha molto da mare quest'altro qui oddio ah ragazzi questo è per c'è tutta la visiera protettiva per il viso e per gli occhi questo quando si va a lavorare con le api perché giustamente ci vuole una protezione se no ci pungono e poi il cappellino di babbo natale ovviamente non poteva mancare in vari colori poi abbiamo questo bel cappellino con la fascetta ai fiori molto carino e colorato primaverile lo vedo poi abbiamo guardate questo berrettino di lana tutto colorato no vabbè carinissimo questo adorabile assolutamente anche qui un altro cappellino invernale questo con una piccola visiera davanti sempre in tanti tanti colori poi abbiamo questo che è un cappello molto lo vedo abbinato bene ad una impermeabile per quando piove quest'altro un altro cappellino di lana sempre con tanti colori e fantasie poi questo qua che è un cappellino un po che mi ricorda tipo paesi freddi russia e affini carino con la loro qua e vabbè questo mi sa che non c'entra niente no infatti ok poi accessori vediamo se hanno messo qualcosa di nuovo e sì perché già lì ad occhio ok qui vediamo questi orecchini togliamoli in attimo il cappello e mettiamoli anche però un taglio corto così si vedono bene gli orecchini eccoli qua guardate che carini con i corilini colorati molto estivi freschi giovanili poi abbiamo questi autunnali con la foglia no vabbè troppo belli questi a cuore bellissimi finalmente tanti orecchini carini perché sentivo un po la mancanza mettevo un po sempre gli stessi invece adesso ti guardate questi no con il pupazzetto di babbo natale cioè di babbo natale di di neve che carino poi un bel paio di occhiali da soli nuovi molto belli molto all'ultimo grido direi belli ci sta pure un sacco bene anna questi che sono proprio i tipici occhiali da da sci da neve ok questi che sono un po sanucci un po eccentrici con le lenti colorate e poi questa bella collana nuova molto carina interessante quello bello mi piace davvero tutto fino adesso vediamo se hanno messo per caso qualche nuovo trucco ma non credo però per scrupolo lo vado a vedere no niente trucchi va bene e quindi direi a questo punto di vedere i vestiti iniziamo con le parti superiori e mettiamo il filtro ok intanto qui ragazzi faccio vedere che già con l'aggiornamento hanno inserito due nuove categorie per gli abiti a clima caldo e gli abiti a clima freddo che immagino i sim si metteranno autonomamente quando farà o tanto caldo o tanto freddo ma questo lo scopriremo meglio in gioco comunque io già qua vedo una cannottierina carinissima molto estiva e molto colorata sia fantasia che a tinta unita molto carina poi questa qua la vedo una giacchettina un po più invernale perché è a maniche lunghe con sopra questo dolce vita qua mezze maniche molto carina anche questa poi qua abbiamo questa bella sopra che mi sembra semi impermeabile tipo sì lo vedo molto bene per l'autunno quando piove tanto carino molto molto carino poi abbiamo questo giacchettino con sotto una maglietta semplice po più sportivo poi guarda che bel cappotto no bello molto bello perché casual ma anche a un taglio un po elegantino mi piace molto molto bello solo tutto nero mi piace un sacco poi abbiamo quest'altra con una maglietta un po accollata anche un po più sportiva se vogliamo questo doppino super super estivo che avevamo visto anche nel trailer guardate che carino questo magari sta bene più forse a un adolescente lo vedo un po più giovanile e questa che non c'entra niente ok vediamo invece i vestitini interi che già mi sembrava comunque dagli vari trailer di aver visto qualcosa infatti guardate qua oddio che carino molto primaverile c'è questo tipo da mettere ai festival alla dell'amore cioè è perfetto e c'è solo in questo colore ma è molto molto carino poi abbiamo questa che è la tuta sempre da api che va in abbinamento con quello strano cappello protettivo che abbiamo visto prima poi c'è questo vestitino cioè carinissimo bellissimo molto estivo ovviamente andrà sicuramente negli albidi molto caldi molto carino un nuovo costume da bagno guardate che bello intero però con il pezzo sopra così molto particolare in tanti colori bello questo sicuramente lo metto a qualcuno subito poi quest'altro molto leggero vedete che ha la manichina proprio trasparente lunga che sembra quasi che non c'è un vedo non vedo molto particolare sempre in vari colori ah sapete ragazzi questo che cos'è è il costume tipo per andare a pattinare sul ghiaccio per pattinare a rotelle sembrano molto sì quei costumi di quel tipo eh sì sì vedete molto molto da spettacolo belli oddio guardate che carino questo il costumino da babbo natale femmina carino no vabbè questo nelle feste invernali a go go proprio poi abbiamo questo bel vestito che sembra un po' più elegante infatti questo è tutto dorato nero ha un po' i colori più classici poi abbiamo questo cappotto da fuori taglio abbastanza classico molto bello anche questo tanti tanti colori impermeabile proprio eh classico quello da quando piove un sacco da abbinare magari alle galosce quelle in gomma guardate che carini tante fantasie veramente carini anche questo stessa cosa però è uguale a quello di prima in pratica solo che ha molte altre fantasie colori diversi ok qua abbiamo una bella tutona invernale tipo tutona da neve quando fa veramente freddo il costume da gnomo invernale anche questo per qualche festa lo vedo bene perché se no insomma non penso di uno normalmente vado in giro così però ragazzi congnuno ai suoi gusti eh non lo possiamo mai dire ho questo qua questo vestito un po' semi invernale perché comunque ha la mezza manichina corta molto carino da festa lo vedo bene bello questo colore veramente bello poi questo maglioncino lungo che fa da vestito quindi lo vedo bene con sotto una calzetta un leggins e magari un bello stivaletto uno stivale questo che invece è molto estivo molto leggero e da colori infatti pastello anche questo guardate che amore c'è bellissimo con il toppino sotto che si vede anche questo può andar bene sia così molto corto oppure con qualcosa un leggins magari anche corto fino qua sotto eh sì sì carinissimo veramente bello poi c'è il costume da coniglietto pasquale anche qui per qualche evento in particolare un altro vestitino estivo molto leggero e colorato carinissimo il costume da babbo inverno perché babbo inverno è un personaggio npg però penso che volendo possiamo anche travestirci noi e fare noi la sua parte poi qua un bel impermeabile proprio chiuso tutto quanto intorno al collo super super chiuso per quanto c'è molto vento e questo stessa cosa solo che cambiano i colori tanti tanti e poi veniamo alle parti inferiori quindi andiamo sempre a mettere il filtro stagioni eccolo qua abbiamo questi bei pantaloni non male mi piace soprattutto questa parte sopra questa chiusura qua i bottoni qua in alto la parte della cintura quindi sia tintonita che anche bicolor sono molto da neve alla fine questi pantaloni anche questi solo che sono un pochino di colori più particolari poi abbiamo questa bella gonna molto carina questa con una mezza lunghezza carina soprattutto sui colori un po' più scuri ecco magari questi colori sono un po' troppo strani però carino il modello anche questa questa è molto carina estiva colorata molto carina poi abbiamo pantaloncini altezza ginocchio pinocchietto un po' più sportivi e questi pantaloncini molto corti per quando fa caldo benissimo poi vediamo accessori braccialini sì c'è qualcosa di nuovo andiamo subito a vedere abbiamo questo braccialino qui al polso sinistro molto carino quest'altro qui a destra eccolo qua questo qua sempre sul polso di destra tipo proprio polsino colorato un guantino perché giustamente per quando fa freddo ci vogliono anche i guanti due tipi di guanti nuovi quindi quelli di prima erano al polso un po' più bassi questi sono un po' più alti e poi delle nuove calze anche di calze comunque ne avevamo già parecchie e ci hanno messo queste un po' più colorate e particolari ok vediamo adesso le scarpe anche qua ne ha d'occhio di nuove e carine abbiamo questi stivaletti invernali cioè carinissimi con il pellicciotto qua no vabbè belli belli mi piacciono un sacco mi li comprerai pure io nella realtà poi abbiamo stivalettini un pochino più bassi poco sopra la caviglia guardate che carini questi qua stivali un po' più alti stile appunto galosce in gomma per quando piove sia così che quest'altro che cambia giusto la fantasia e infine questi stivaletti con il tacchetto un po' più eleganti molto carini io poi adoro anche nella realtà gli stivali gli stivaletti quindi bellissimi assolutamente e per quanto riguarda le simmine femmine le donne direi mi sembra che questo sia tutto adesso andiamo a vedere cosa hanno aggiunto per gli uomini perciò trasformiamo la nostra cara Anna in un maschietto e vediamo che cosa c'è anche per loro ed eccoci qua ragazzi con Anna versione uomo guardate un po' non l'avevo mai provata e direi che si diviso assomiglia molto all'Anna versione donna ovviamente allora vediamo quindi le cose nuove aggiunte per i maschietti partendo sempre dai capelli abbiamo già il filtro selezionato così facciamo prima allora guardate qua questi che carini che l'abbiamo visti anche nel trailer un po' molto particolari quindi rasati qua ai lati e questi rasta con sto cipollotto qua in alto questi che li ritroviamo anche nelle donne quindi sono unisex e anche questi unisex e come al solito i maschi hanno meno cose rispetto alle femmine ma questo ormai ci siamo abituati comunque togliendo il filtro poi maschile possiamo utilizzare abiti acconciature anche delle donne e viceversa ecco quindi alla fine non siamo più tanto limitati comunque questi sono i capelli strettamente maschili e unisex inseriti per i maschietti barbe e baffi nuovi vediamo un po' ma non credo ah si wow ah vabbè certo abbiamo giustamente la barba stile babbo natale ovviamente d'accordo togliamola però perché sta malissimo non mi piace molto però questa c'è i capelli i capelli sono gli stessi si vedete sono quelli che abbiamo già visto per le donne vedete non c'è niente di nuovo ok quindi sono unisex occhiali da sole questi due prettamente maschili che abbiamo già visto e basta che trucco ok non c'è niente andiamo a vedere quindi le magliette allora parti superiore abbiamo giacca un po' si casual barra elegante con la sciarpetta quindi maniche lunghe per cui immagino sia un abito pesantuccio questa invece viceversa è una cavanotta molto scacciata quindi molto leggera si forse la metterei magari per casa però per uscire non mi sembra tanto carina poi abbiamo questa camiciola tenuta qua sbottonata sul davanti che magari sta meglio a qualcuno che è un po' più prestante di fisico diciamo che ha qualche pettorale scolpito in più poi abbiamo questa canotta abbastanza sportiva questa giacca con il solito lama la nostra mascotte di The Sims che non può mai mancare poi questo bel cappottone caldo invernale che adesso a guardarlo mi viene caldo pure a me perché sto schiattando effettivamente di caldo quindi questi abiti è strano finalmente potremmo avere diciamo una stagione in The Sims 4 diversa da quella che è attualmente perché io in genere ho sempre vestito i sim in base alla stagione attuale invece adesso magari capita che noi saremo in realtà in estate e invece in The Sims sarà magari in verlo quindi sarà molto strana questa cosa però non vedo l'ora di provarla quindi quest'altra giacca sempre con la zip qua molto sempre sportiva questa qua invernale perché vedete che ha tutto il pellicciotto in vari colori poi abbiamo questa un po' più leggera a mezze maniche c'è il gilet colorato con sotto una maglietta semplice a mezze maniche poi corpo intero abbiamo cose nuove questo abito nuovo elegante oh bello bello perché gli abiti maschili eleganti non ce ne stavano tanti che mi piacevano quindi sono contenta che non ho aggiunto un altro poi questo con giaccone lungo un po' stile giacca a vento tutto intero con tutti i pantaloni questo qua molto da festa c'è solo questo colore ed è il pandan di quel vestitino rosa colorato femminile che avevamo visto prima poi questo bel impermeabile per la pioggia tanti colori tanti colori diversi la tuta api che abbiamo visto prima poi questo che è invece il corrispettivo maschile del pattinaggio sul ghiaccio per le simmine avevamo il vestitino con la connellina corta e per i simmine la tuta unica poi quest'altra bella giacca con i pantaloni molto da neve molto da sci il costume da gnomo che abbiamo visto prima babbo inverno e il coniglio pasquale poi parti inferiori e mi sembra che siano più o meno sì le stesse cose ragazzi vedete i pantaloni che abbiamo visto anche prima per le simmine questi pantaloncini corti sono invece un po' diversi rispetto a quelli delle femmine questi qua abbiamo lunghi ok non male mi piacciono soprattutto neri io vado un po' sui colori classici in genere poi un nuovo costume da bagno a pantalone corto quindi sia con i fiori che colorato così a tinta unita e poi un pantalone stile mimetico sempre per il freddo lo vedo in vari colori anche alcuni più semplici altri un po' più particolari ok vediamo accessori abbiamo per i maschietti il bracciale come quello per le femminucce e i due tipi di guanti che abbiamo visto anche prima e per quanto riguarda le scarpe vediamole bene quindi queste si sono per loro cioè maschili e basta stivali quindi alti sempre da neve questi c'erano anche per le femmine così come anche questi e questi invece dovrebbero essere nuovi sono tipo i moonboot quelli proprio per andare sulla neve bella alta ok e anche per i maschietti adulti abbiamo visto tutto adesso andiamo a vedere i bambini iniziamo dai bimbi maschi ciò che ci siamo e poi vediamo le femmine anche se probabilmente avranno tutte cose uguali come ormai siamo abituati a vedere ecco qua bimbetto la nostra Anna l'abbiamo trasformata prima in un maschio e poi in un bambino però guardate che carino che è allora iniziamo sempre dai capelli e eccoli qua abbiamo due nuove acconciature questa oh carina molto molto carina questa la userò sicuramente e quest'altra un po' tutta ricettina e rasata qua ai lati ok mi piacciono tutte e due poi cappellini per i bambini abbiamo questo da elfo di babbo natale guardate anche le orecchie cioè è proprio insieme al cappello sono orecchie finte cappellino invernale con il pompon in cima sempre guardate quanti colori ci stanno e poi il cappellino quello classico tipo da mettere insieme ad un impermeabile oddio che carino questo con la fragolina no vabbè coloratissimi carinissimi vediamo gli accessori niente il trucco vabbè ovviamente niente e vediamo quindi le parti superiori allora abbiamo questa camicia con sopra questo gilet che mi piace tantissimo bella con anche i colori molto molto carini poi questa bella giacchina a vento impermeabile molto carina questa bella giacca la vedo molto imbottita molto per quando fa tanto tanto freddo anche questa è un'altra bella giacchina pesantuccia che sotto c'è la tutina vedete da cui spunta il cappuccetto poi questa qua che è tipo una giacchetta di elegante questo è stile bambino non lo so lo vedo molto english come stile non mi piace molto sinceramente però ok per un bambino e questo guardate che carino questo molto da neve anche carinissima poi vediamo se c'è qualcosa corpo intero abbiamo giustamente avevamo il cappello da elfo e abbiamo anche il costume poi la tuta molto anche questa la vedo da sci quelle classiche proprio tutte intere un'altra bel completo per il freddo giacca a vento vedete che lunga con sotto i jeans questo è l'impermeabilino che lo vedo bene abbinato a quel cappellino che avevamo visto prima questo magari è un po' più da bimbe con i fiorellini ma infatti sarà sicuramente unisax poi un nuovo completino elegante guardate che carino questo signorino così vestito questa giacchetta mi piace un sacco con i bottoni fatti così molto molto carina poi questa qua che è un completino semplice pantaloncino corto e magliettina a mezze maniche sarà sicuramente estiva questa di nuovo torniamo sull'invernale con la sciarpetta e infine quest'altra sempre stile impermeabile giacca a vento ok parti inferiori oh niente non hanno messo niente accessori hanno messo solo i guantini meno male perché così anche i bimbi possono non ghiacciarsi le mani e le scarpette adesso andiamo a vederle bene hanno questi qua che c'erano anche per simili per gli adulti guardate che carini da neve proprio e poi queste le galoscette che stanno benissimo con l'impermeabile guardate queste che carine troppo troppo carine le galoscine le adoro le metterò sicuramente a qualcuno e ok quindi abbiamo visto tutto e adesso andiamo a vedere per le bambine ecco qua la nostra Anna da bambino è diventata a questo punto bambina e iniziamo sempre dai capelli allora abbiamo oh questa bella conciatura un po' elegante con il cipollotto e la frangia e questa qui guardate che carina con i capelli super ricci super voluminosi molto molto carina cappelli sono gli stessi che avevamo visto anche per i bambini accessori niente e quindi iniziamo con le parti superiori allora per le bimbi abbiamo oh che carino questa giacca carinissima molto carina poi questa che avevamo visto anche per i maschietti anche questa e mi sa che tutte queste cose si le abbiamo già viste sono quindi unisex poi parti inferiori niente accessori guantini le abbiamo già viste con i maschietti e le scarpe queste due le abbiamo già viste mentre queste sono nuove guardate che carini questi stivaletti con il fiocchettino dietro molto molto carini ok e direi che abbiamo visto ah ok no niente mi mancavano i vestiti interi ok eccoli qua guardate che carini aspettate che togliamo magari le scarpe altre cose non c'entrano niente questa bella giacchetta con la sciapetta e i pantaloni sotto abbinati poi guardate questa che carino questo vestitino sempre maglioncino lungo che arriva fin sopra le ginocchia e sotto quindi ci va magari una calza o un leggings questi invece l'avevamo già visti perché è da elfo questo è nuovo quindi questa giacchetta con i bottoncini così particolare guardate anche che colore che fantasie strane questa l'avevamo già vista questa anche che è unisex questa è nuova oh si molto carino questo vestito un po' elegantino o comunque da festa estivo però molto carino questo l'avevamo già visto questo no oddio carino molto carino no adorabile questo tanti colori però secondo me il nero è sempre il più bello perché è più elegante come colore questo l'avevamo visto questo l'avevamo visto e questo è tipo un costumino nuovo quindi con la magliettina sopra e il calzoncino ok ragazzi mi sa che abbiamo visto tutto perché non ci sono nuovi tratti e nuove aspirazioni non l'hanno aggiunta qua nel cast però hanno aggiunto nuovi tratti premio da poter riscattare con i punti vitalizi quindi quella è una cosa che poi andremo a vedere in gioco ci manca l'ultima cosa da vedere che sono i bebè io penso che abbiano aggiunto alcune cose per loro in particolare i costumi da bagno quindi andiamo subito ragazzi vabbè guardate ho trasformato Anna Bimba in Anna Bebè e guardate già che carini questi capelli che intravedo nuovi cioè no vabbè sono un amore guardiamoli subito eccoli ci stanno questi e immagino che cambiando colore dei capelli cambia anche il colore della fascia no vabbè sono troppo adorabili questi capelli troppo troppo adorabili vediamo cappellini hanno aggiunto anche per loro quello da elfo di Babbo Natale cappellino invernale che ce l'avevano anche i bimbi più grandi e questo cappellino che va con l'impermeabile carinissimo accessori penso niente quindi vediamo i pezzi sopra abbiamo questo qua quindi questo gilettino con il maglioncino a maniche lunghe sotto sarà sicuramente unisex molto carino vestitino oddio guardate quanti abbiamo questo sempre da elfo di Babbo Natale poi questo qua impermeabilino colorato cioè no vabbè adorabile io vestiro tutti i miei bebè super colorati sicuramente con questi vestitini qui questo più pesantino proprio da neve super imbottito e guardate questo cioè un albero di Natale no vabbè cioè non si capisce se è una punizione per il bebè perché effettivamente è un po' è un po' ridicolo però sono troppo carini i bebè così sicuramente ce lo vestirò qualche bebè con l'evento della festa invernale sicuro proprio cioè non è non è bello però è tenero come dire poi guardate qua i costumi di da bagno anche per i bebè finalmente perché anche loro adesso potranno sguazzare nella nuova piscinetta che hanno aggiunto cioè guardate che carino questo costumino per le bimbe bellissimo e anche questo no vabbè sono bellissimi poi di nuovo torniamo con una giacchetta a vento infermiabile per quando piove un bel vestitino nuovo elegantissimo formale o da festa e poi una tutina molto comoda anche per giocare e stare in casa carinissimo parti in fedoriniente accessori i guantini anche per loro giustamente su queste piccole piccole manine tutte cicciose e poi le scarpine abbiamo questi stivaletti cioè carinissimi troppo carini queste scarpine invece aperte più estive sono talmente piccole che nemmeno si vedono e poi le caloscette e queste cioè adorabili no vabbè carinissime con con l'abitino impermeabile stanno veramente un amore andiamo a vedere adesso i bebè maschi ma mi sa che le cose saranno le stesse eccoci qua vediamo se i capelli sono diversi sì c'è un nuovo capello da maschietto proprio stile molto classico vedete con il taglio a funghetto io lo chiamo poi i cappelli sono gli stessi però c'è in più questo qua a visiera la visiera è più grande della faccia del bebè in pratica poi accessori vabbè niente vediamo parti superiori sì questo lo abbiamo anche per le per le bimbe parti inferiori c'è questo di nuovo ok molto elegantino con la il gilettino il papiglione il collo poi l'albero di natale l'abbiamo già visto prima e c'è questo diverso ah che tipo tuta tuta scusate tipo muta la muta estiva per entrare in acqua quando fa freddo così magari forse i bimbi si possono fare il bagno nella piscina anche anche quando non è estate chissà lo vedremo accessori ovviamente niente e le scarpine abbiamo sì le stesse che abbiamo visto anche per le bambine e quindi ragazzi questo è tutto per quanto riguarda le nuove cose aggiunte nel cassa nel prossimo video andremo a vedere quindi tutti i nuovi oggetti con questo ci fermiamo qui spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete il like mettete il mi piace anche la mia pagina facebook per rimanere sempre aggiornati fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate ragazzi se avete già acquistato questa espansione e se vi piacciono le nuove cose che hanno aggiunto noi ci fermiamo qui e tra poco arriverà appunto il video sugli oggetti e poi finalmente inizieremo a vedere il gameplay vero e proprio che è quello che io attendo non vedo proprio l'ora di giocare sia per conto mio e sia anche insieme a voi quindi vi aspetto presto con nuovi video ciao ciao